Crizia si concede un massaggio rilassante e ci dà dei consigli. Lui è dentro da BabyNest, io. Io ne approfitto per fare il mio massaggio settimanale con Desi e Renata Franca. Oggi però stiamo facendo l'altro che è il Manuela, che praticamente mi sta cambiando completamente in due settimane e poi vi faccio vedere i risultati. Come facciamo Desi? Oggi sto facendo un bel drenante così andiamo a eliminare i proteiniquidi in eccesso, poi a produrre l'infa nuova e andiamo completamente a sgonfiare l'addome, quindi anche accelerare il metabolismo e il risultato sarà sforpendente. Ora lo mostro. Questo consiglio di Crizia è prezioso, bisogna provarlo sicuramente.